Creare è sempre un atto d'amore e di fiducia ed eravamo in pochi 27 anni fa a sognare con amore e fiducia di restituire valore alla bellezza del nostro paese. Oggi siamo i primi mille. Sono Anna Marras, socia di edilizia acrobatica e sono qui per offrirti l'opportunità della tua vita. Entra nel nostro gruppo. Siamo presenti in tutta Italia. Che tu sia architetto, ingegnere, geometra o muratore, stiamo cercando te!